amici sportivi amici scommettitori bentornati sul canale benvenuti in questo nuovo video allora ragazzi siamo arrivati in una fase molto importante di euro 2020 oggi farò i pronostici dei quarti di finale dove ci saranno partite molto molto interessanti intense da osservare tante sorprese agli ottavi tanto che i pronostici devo essere onesto non sono andati granché quelli degli ottavi di finale la repubblica cieca la svizzera e insomma un po di sorprese ci sono state lo dobbiamo dire chissà che questi quarti di finale non vadano lisci non vadano lisci come l'olio e quindi ci possano dare qualche soddisfazione in più quattro partite che ho segnato sul mio foglietto prima di iniziare come sempre vi invito a iscrivervi al canale e a lasciare un bel mi piace in più lascio in descrizione il link per unirvi al canale telegram dove potete potrete seguire sia i video ma soprattutto le schedine che farò io per prendere spunto adesso non perdiamo altro tempo iniziamo con la prima partita che vede affrontarsi svizzera e spagna la svizzera che clamorosamente ci ha dato ci ha dato una gioia a noi italiani ha sbattuto fuori i favoriti presuntuosi campioni del mondo francesi che pensavano di poter arrivare magari fino in fondo onestamente lo pensavo anch'io lo pensavano un po tutti perché onestamente la francia è una squadra veramente dalle individualità molto forti però la svizzera ha dimostrato che con l'organizzazione la voglia e la determinazione si possono ottenere anche i risultati che magari all'inizio sarebbero un po' isperati la spagna sta andando bene tutto sommato ha iniziato un po' a rilento però poi ha rifilato un 5 a 0 alla slovacchia 5 a 3 alla croazia anche se ha dovuto aspettare i tempi supplementari però ragazzi non scordiamoci che la croazia è una grande squadra ci sono due precedenti in nation's league tra svizzera e spagna un pareggio per 1 a 1 e una vittoria 1 a 0 per la spagna segno quindi che assisteremo a una sfida comunque molto equilibrata motivo per il quale ho selezionato una quota un po' particolare ho selezionato passaggio turno spagna quotato 1 e 35 ciò vuol dire che la spagna potrà vincere i rigori ai supplementari o nei 90 minuti l'importante che a passare sia la spagna io l'ho selezionata e l'ho messo in schedina a 1 e 35 passiamo alla seconda partita ragazzi partita attesissima attesissima venerdì non vedo l'ora le 21 belgio italia belgio italia allora sicuramente andiamo ad affrontare una delle nazionali favorite come la francia come l'inghilterra per la vittoria finale noi siamo un outsider di lusso no perché comunque alcuni non ci davano nemmeno oltre oltre gli ottavi quindi stiamo dimostrando di potercela giocare con tutti siamo di sicuro la squadra che fino a questo momento ha giocato meglio e impressionato di più sia per qualità di gioco sia come intensità sia per spirito di gruppo quindi infatti il bookmaker ci dà addirittura favoriti a 2 40 contro un belgio che è dato a 3 10 3 20 dipende poi dal bookmaker che andrete a scegliere sarà sicuramente una partita molto tesa dove le squadre studieranno difese molto forti quella del belgio forse leggermente più lenta come come muovenze però di sicuro tra portieri e difensori queste due squadre sono secondo me attrezzate benissimo sarà secondo me molto molto studiata questa sfida tra le due squadre infatti ho selezionato no il risultato finale ma il risultato del primo tempo x primo tempo quotata 2 secondo me è una buona soluzione quindi magari 0 a 0 poi nel secondo tempo ci saranno delle occasioni ma comunque vedo una partita in perfetto equilibrio dove saranno gli episodi a decidere chi passerà a questo turno quindi belgio italia x primo tempo quota 2 e la inseriamo in schedina passiamo alla terza partita repubblica cieca danimarca anche qui ragazzi sorpresa repubblica cieca che onestamente non davo nemmeno tra le favorite nel passaggio del turno invece addirittura ha passato il turno ha sbattuto fuori l'olanda tanto di cappello l'olanda tantissimi buoni giocatori l'allenatore un po meno bravo però ragazzi la repubblica cieca in questo momento sbattere fuori l'olanda è veramente veramente un'impresa va a incontrare la danimarca che ha battuto 4 a 0 il galle se l'ha proprio spazzato via danimarca che dopo l'1 a 0 preso contro la finlandia e la sconfitta poi col belgio ha saputo comunque tirare sulla testa non mollare mai e presentarsi tra le prime otto tra le prime otto squadre europee quindi molto bene per molto bene la danimarca sicuramente sarà una partita molto tesa anche perché sono andato a vedere i precedenti tra le due squadre ci sono molti pareggi in passato quindi è proprio un segno che le due nazionali un pochino si equivalgono vedo favorita ovviamente la danimarca così come il bookmaker però voglio voglio giocare nuovamente per la danimarca il pronostico che ho giocato per gli ottavi quindi qualificazione danimarca un pochino come per la spagna data 1 e 55 quindi rigori supplementari 90 minuti l'importante che passi la danimarca secondo me l'unico 55 un'ottima ma ottima ottima quota chiudiamo con ucraina inghilterra anche qui altra sorpresa ieri dove l'ucraina ha sbattuto fuori la svezia forse un po meno sorpresa delle altre però la svezia per come stava andando per come si era proposta addirittura aveva vinto il suo girone con sette punti era favorita di sicuro invece l'ucraina ha avuto la meglio ieri all'ultimo minuto la zampata la zampata dei giallo blu che ha consentito agli uomini di cevchenko di approdare tra le prime otto con grande onore dove incontrerà l'inghilterra un'altra squadra tra le favorite alla vittoria finale in questo momento direi che inghilterra e belgio sono le più le più accreditate per vincere il torneo inghilterra che ieri ha battuto con un rotondissimo 2 a 0 la germania così come da pronostico quindi direi che qua secondo me c'è poca partita e basta sorprese le sorprese ci sono già state agli ottavi l'inghilterra è veramente forte dimostrato è l'unica squadra tra l'altro nel torneo che non ha ancora subito gol segno che veramente c'è un'organizzazione totale per quanto riguarda gli uomini di southgate quindi ucraina inghilterra 2 quota 1 e 45 tra l'altro secondo me è anche un'ottima un'ottima quota e andiamo a chiudere qui la nostra schedina se volete fare un'unica schedina cosa che molto probabilmente farò e posterò sul gruppo telegram qua la quota totale è di circa 6 vuol dire che se andiamo a giocare 10 euro vinceremo 60 euro quindi 50 euro puliti netti ce li metteremo in tasca che per un quarto di finale ragazzi in questo periodo dove bisogna partire per le vacanze 50 euro fanno sempre comodo in più abbiamo finito quindi solite raccomandazioni rispettate i vostri limiti di budget non superate mai quelle che sono le vostre possibilità economiche l'interista bet vi saluta vi auguro la buona fortuna e di vincere tanti soldi ciao